Il Ministero del Lavoro ha bocciato la gasa integrazione straordinaria richiesta per i lavoratori della Onewell di Atessa, nonostante l'accordo del 16 febbraio, sottoscritto al MISE, per la chiusura dello stabilimento di turbocompressori che la multinazionale americana ha trasferito in Slovacchia. Un fatto gravissimo, commenta il segretario provinciale FIOM di Chieti Davide Labrozzi, che espone i lavoratori al rischio di licenziamento immediato dal 1 giugno. La richiesta di CIGS presentata da Onewell per il periodo dal 3 aprile 2018 al 2 febbraio 2019 è stata rigettata dal Ministero del Lavoro in quanto dal 1 giugno 2016 il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale non può essere più richiesto nei casi di cessazione di attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa. E il programma di gas e integrazione presentato dalla Onewell, scrive il direttore generale del Ministero del Lavoro, è sostanzialmente finalizzato alla cessazione dell'attività di produzione di turbocompressori che rappresenta l'attività principale dell'unità di Atessa. Davide Labrozzi, adesso? Adesso manifestazione a Roma, dinanzi al Ministero del Sviluppo Economico, è richiesta immediata l'azienda di prorogare tutti i termini che avrebbero dovuto in un certo qual modo definire uno spartiacque tra rapporto diciamo così ordinario e quello straordinario della cassa integrazione. Ovviamente noi siamo non solo rammaricati ma siamo anche arrabbiati perché da una parte avremmo potuto fare una discussione un po' diversa e dall'altra ci siamo fidati di un Ministero che si era impegnato in un certo qual modo a garantirci una cassa integrazione che sì noi abbiamo costruito un po' messo su un equilibrio precario ma che comunque in un paese normale quando c'è un impegno il rimpegno viene rispettato. Cioè noi non abbiamo dichiarato che ci sarebbe stata la cessazione dell'attività lavorativa ma solo dell'attività produttiva quindi significa che il presidio sarebbe rimasto garantendo a noi il diritto alla cassa integrazione. Il Ministero dopo aver assunto questo impegno si è svegliato ieri mattina e ha deciso di negarci la cassa integrazione. Quindi noi lunedì andremo con i 400 lavoratori sotto la sede del Ministero dello sviluppo economico e vediamo un po' insomma anche se purtroppo la fase non gioca a nostro favore. Attualmente il Ministro è calenda ma sappiamo che questo governo non esiste più perché ne sta nascendo un altro ma pur consapevoli di questa condizione politica assolutamente precaria noi andremo a cercare di discutere con delle istituzioni che comunque non possono diciamo così ad un certo punto non esserci. Comunque sul nostro territorio all'opera purtroppo i rapaci della mano d'opera. Esattamente così, un'impresa che decide di chiudere un'azienda a gioiello, le istituzioni che si impegnano a fare alcune cose e poi queste cose vengono diciamo così purtroppo non fatte e i lavoratori restano in un certo modo soli, sostenuti dal sindacato che ad un certo punto non sa dove sbattere la testa.